Perché una lezione sul protocollo in ALMA? Riteniamo opportuno trasferire agli studenti del corso Manager della Ristorazione e del corso di Sala Bar e Sommellerie la importanza grande che hanno i dettagli e quindi la forma, la forma che non è mai qualcosa di fine a se stesso ma veicola dei significati, dei simboli. Facciamo questa lezione in collaborazione con la Protocol Academy di Roma grandi professionisti che hanno sempre lavorato ai massimi livelli per rendere ancora una volta la didattica di ALMA qualcosa di unico, qualcosa di profondo e importante. Una giornata entusiasmante quella qui ad ALMA intanto perché vedere questo gran numero di giovani così impegnati dà fiducia. Nel tempo che viviamo, che è un tempo di cattive notizie sulla gioventù in genere, sull'occupazione scoprire, come è accaduto a me oggi, un mondo completamente diverso, cioè rovesciato, un mondo del futuro ci dà una grande speranza ed è tutto sommato uno dei ruoli che si è assegnato all'Accademia del Cerimoniale cioè di prendere il passato della comunicazione istituzionale pubblica e della comunicazione istituzionale in relazione con la comunicazione dell'impresa e proiettarlo nel futuro.